Dalla Domenica delle Palme alla Domenica di Pasqua vi sono tre giorni che primeggiano per la loro solennità e unicità. È il Triduo Pasquale nel quale si commemora la crocifissione, sepoltura e resurrezione di Gesù Cristo. L'Abruzzo racchiude in sé alcune delle più caratteristiche antiche. Si parte da quella del Giovedì Santo con la processione degli Incappucciati che si svolge a Lanciano. Rappresenta il pio esercizio di visitare i Santi Sepolcri nelle Chiese. Questo cammino di sofferenza si identifica in un unico simbolo rievocativo, simbolo rappresentato dalla pesante croce portata sulle spalle da un confratello incappucciato e scalzo, il Cireneo, di cui nessuno conosce l'identità, eccetto il Priore. Le celebrazioni del Venerdì Santo si aprono alle 4 del mattino a Teramo con la processione della Madonna Desolata, unica in tutto l'Abruzzo. Il rito della Desolata rievoca la ricerca della madre, angosciata, del figlio Gesù condannato a morte. Questa cerca avviene per 7 chiese di Teramo, che rappresentano anche i 7 dolori di Maria Adolorata. Alle 18.30 della sera Teramo prende vita una seconda processione, quella del Cristo morto, a cui membri sono detti cinturati, perché sul petto, sopra la tunica bianca, hanno una fascia azzurra. In segno di lutto, il Venerdì Santo, questa fascia è nera. I 12 portatori del baldacchino del Cristo, divisi in quadriglie da 6, portano anche una tunica viola. Ma è a Chieti che si svolge la più antica. La processione del Venerdì Santo è forse la più antica d'Italia, titolo questo conteso con la processione di Orte. La sua origine, infatti, risalirebbe all'842 d.C. La processione inizia la sera del Venerdì Santo, verso le 19, dalla cattedrale di San Giustino. Lungo il gran percorso sono presenti i tripodi accesi con fuoco di cera, un tempo necessario per la luce e per bruciare Vincenzi ed Aromi. Il sabato santo, giorno che precede la Pasqua, per antichissima tradizione, la chiesa sosta spiritualmente presso il sepolcro del Signore. Meditando la sua passione morte, astenendosi dal celebrare la Santa Messa, gli altari di tutte le chiese restano senza tovaglie e senza ornamenti, fino alla solenne veglia della notte di Pasqua. Giornata di rito che prevede la benedizione dell'acqua, del fuoco e dell'incenso. E infine la Domenica di Pasqua, esiste una tradizione che caratterizza Sulmona, particolarmente suggestiva, unica nel suo genere, quella della Madonna che scappa e si svolge in Piazza Garibaldi. Dopo la celebrazione mattutina della Messa, ufficiata dal Vescovo di Sulmona, la processione dei confratelli lauretani, con la statua del Cristo risorto e quella dei Santissimi Apostoli Pietro e Giovanni, si reca in Piazza Gianricolma di gente che aspetta trepidante di vedere schiudersi il portale della chiesa di San Filippo. Ai Santi Giovanni e Pietro viene affidato il compito di annunciare alla Madonna la resurrezione del figlio. Essi si dirigono verso la chiesa di San Filippo e dopo alcuni tentativi di convincimento la porta finalmente si apre e la statua della Madonna compare sulla soglia e quindi lentamente si avvia verso la piazza e all'altezza della fontana monumentale inizia tutto. I portatori si fermano, la folla trattiene il respiro, loro prendono il tempo giusto, poi a un attimo sollevano la statua della Vergine e cominciano a correre in direzione della statua del Cristo. I portatori si fermano, la traduzione della statua del Cristo.